Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito anche tutte le nostre zone, ma con una pioggia tutto sommato preziosa perché è stata prolungata, diffusa, ma non intensissima. Ha colpito invece, come avete visto, come vediamo, in modo distruttivo proprio, l'Emilia Romagna e in parte le Marche. Ecco, lì si sono scaricate grandi quantità di pioggia, grandissime quantità e purtroppo hanno provocato quello che abbiamo visto da anni anche in vite umane. Ora l'alta pressione tende a aumentare, a portarsi su di noi, anche se c'è ancora un po' di infiltrazione che sarà evidente sabato sera. Poi per avrà l'alta pressione, l'anticiclone, avremo una settimana di buon tempo. Riassumendo, sabato inizialmente una nuvolosità irregolare, poi un peggioramento nel pomeriggio, in serata potremmo avere qualche pioggia più o meno diffusa. Domenica mattina ancora un po' di instabilità e poi ampi spazi di sereno. Dicevo poi il sereno in prevalenza o qualche nube ci accompagnerà per il resto della prossima settimana. I venti saranno deboli dai quadranti orientali. L'alta di arica è previsto poco mosso. Le temperature, le minime 15-16 gradi, poi avremo un aumento veloce, d'altronde ormai è quasi estate e quindi le massime già da lunedì, domenica 26-27, anche 28 gradi la prossima settimana. Insomma, temperature estive. È tutto. Grazie a tutti.